E Roberto Miano il giocatore che completerà la difesa del Giarre. Classe 96, Miano il classico difensore centrale che andrà a completare il reparto insieme a Patane, Fama e Di Benedetto. Arcigno e con grande senso della posizione, Roberto Miano è stato uno dei protagonisti della scalata del Rocca di Caprileone, con cui nel 2015 ha vinto la promozione e l'anno dopo ha sfiorato la Serie D arrivando secondo dietro l'Igea Virtus. Ed è stato in questo biennio che Miano si è messo in mostra dopo la trafila nel settore giovanile del città di Messina. Nell'ultima stagione Miano ha vestito la maglia delle città di Sant'Agata, anche se solo nel girone d'andata. Per Roberto Miano, Giarre a questo punto può rappresentare il momento della consacrazione. È stata una chiamata da parte della società, da parte di questa squadra, di questa ambiziosa piazza. E niente, siamo qua, ora manca solamente l'ufficialità ed è tutto pronto. Sono felice di stare qua insieme a queste squadre. Tra l'altro questa è un'esperienza in una piazza di grandi tradizioni, per te diventa una vetrina importante. È il momento forse del salto di qualità del tuo percorso calcista? Sì, può essere, perché no. Magari quest'anno noi vogliamo fare la nostra bella figura, vogliamo dare la nostra impronta al campionato. Magari facendo bene non si sa quello che succede nel prossimo anno. Proviamo un po' a descrivere il Roberto Miano calciatore, difensore centrale classico, molto arcigno, specie nell'anticipo. Ti difendi discretamente anche nel gioco aereo. Proviamo un po' a descrivere quelle che sono le tue caratteristiche. Sì, si è detto bene. Non penso a chi altro. Nel gioco aereo, sì. Manca dura. Solite cose che un difensore deve fare. Non mi ammette. Come mai? Non ci facevo a mancare nulla. Avevi tante offerte, tante proposte. Come mai Giarre? Così. Mi ha chiamato di Giarre. Sono corso perché mi piace l'ambiente. Secondo me c'è una grande famiglia alle spalle. Lo so per certo come anni passati. Ci dovevo venire anni passati. Non sono voluto venire. Adesso mi fa piacere di stare qua.